La Regione Calabria continua a investire nella formazione di giovani medici, afferma in una nota Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, che possano nell'immediato futuro dare il proprio contributo attivo alla sanità calabrese. Nel riparto dei posti statali delle borse di specializzazione in medicina, la Calabria potrà infatti beneficiare quest'anno di un incremento consistente di 58 borse in più rispetto al precedente anno accademico, toccando quota 250, alle quali si aggiungono 84 nuove borse finanziate direttamente dall'Aggiunta con risorse regionali. Una cosa mai accaduta nella storia della nostra Regione. Questo straordinario risultato è stato possibile anche grazie al lavoro dei dipartimenti, università, istruzione e tutela della salute e servizi sociosanitari della Regione. Tengo a sottolineare, aggiunge Occhiuto, che al netto dell'importante iniziativa che ha previsto l'innesto dei medici cubani nei nostri ospedali, un'operazione ben riuscita che ci ha consentito di gestire un'emergenza di personale che rischiava non solo di far chiudere interi reparti, ma stava generando un esborso milionario delle nostre casse verso le cooperative di medici a gettone. Abbiamo anche assunto in quest'ultimo anno e mezzo più di 2.500 tra medici e operatori sanitari. L'impegno della Regione Calabria è di dare sempre più opportunità ai nostri giovani di formarsi in questo campo sul nostro territorio. Per questo proseguiremo su questa linea nei prossimi anni, conclude il Presidente Occhiuto, aumentando il più possibile progressivamente le borse di specializzazione finanziate dalla Regione.